L'umana Reier Venezia continua la marcia con la settima vittoria consecutiva che grazie all'85-68 finale consente di staccare in classifica la passa alla Caragusa nello scontro diretto tra le seconde forze del campionato. Le Lagunari sono superiori in tutto, percentuale al tiro, rimbalzi e assist. Embi riesce a portare avanti la propria squadra mettendo al referto ben 25 punti, ma non basta. Solo uno scatto d'orgoglio per le biancoverdi nel terzo quarto, ma poi Venezia di nuovo ha preso il sopravvento. Partono bene le Lagunari, a metà del primo quarto doppiano Ragusa, Petronita e Stemberga imperversano sotto canestro a due minuti dalla fine. Embi e Romeo scuotono la passa l'acqua che è un lieve recupero 25-16, secondo quarto con Venezia avanti di 11 punti grazie all'ex Gorini. Le Lagunari vanno facilmente al tiro. Bestagno porta la squadra a più 15, a 4 minuti dalla fine. Ragusa recupera, ma ha difficoltà da andare a canestro. Consoline porta le biancoverdi a meno 6, ma Venezia è micidiale con Stemberga. Si va al riposo lungo sul più 8. Non cambia l'inerzia della partita nel ritorno in campo. Le Venete si riportano avanti di 13 punti, ma Ragusa ha un ritorno di fiamma, perché alla quinto minuto del terzo quarto Embi e Romeo riducono a meno 2 e la partita è riaperta. Venezia non ci sta e fa valere la sua fisicità e precisione al tiro. Nell'ultima parte del quarto le Lagunari si riportano avanti e chiudono sul più 9. Si segna poco a inizio ultimo quarto. Venezia è comunque micidiale sotto canestro. A 5 minuti dalla fine le Lagunari sono già avanti di 15 punti. Il vantaggio dei padroni di casa si mantiene tra i 12 e 14 punti, anche grazie alla reattività e al rimbalzo offensivo. Ragusa non riesce mai a scendere sotto la doppia cifra di ritardo. Minimo margine sul 74-63. E anzi, Venezia nella finale allunga fino all'83-67, alla 39esimo, provando anche a ribaltare la differenza canestri, ma finisce 85-68.